Ciao dolcissime e dolcissimi, chi è questa bella creatura? È Giulio, amore della mamma, che c'è? Allora, praticamente, quando mi prendo io il sole, lui viene, sa che mi prende il sole a quest'ora, e lui mi segue. Amore, quanto sei bello, cucciolo, cucciolo. Amore, stamattina hai fatto le lezioni insieme a me, è vero? Ci ho dato i crocantini. Amore, amore mio, quanto sei bello. Con la famistà mi sto prendendo il sole, che cazzo vuoi? Beh, tu ti prendi il sole alle coste, al corpo, io non mi posso prendere il sole. Ma, 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 la famistà, sono nervosa. E perché sei nervosa, amore? Eh, se lo sai, io sono gelosa di quella cazza, della cazza di Lady. Dove sta? Eccola, Lady. Non so se si nota. Eh, sì, di te, sono gelosa. Solo a me mi devi volere bene, bambina. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!